Ragazzi benvenuti in un nuovo video di Calcio Toro, oggi stamattina un po' messo male ma contento ma contento perché finalmente è stato annunciato un acquisto, finalmente è stato annunciato Diego Laxalt esterno uruguagio, la scorsa stagione ovviamente ha casato ai colori rossoneri dove ha giocato comunque un'annata deludente, lo sappiamo ha floppato, infatti tutti i milanisti sono contentissimi della sua cessione ma io lo trovo veramente un ottimo acquisto e in questo video vi parlerò un po' di lui e di ciò che penso appunto di Diego fermo restando che io lo considero un ottimo acquisto e veramente per me se ritorna quello di Genova che può essere, può essere, secondo me è molto probabile anche perché con Walter Mazzarri giocherà in un centrocampo a 4-5 che è l'ideale per lui, beh devo dire che questo colpo meriterebbe un 7 come voto dunque, parliamo di Diego, parliamo di Diego allora, lui chiaramente è un esterno, non un terzino, il Milan ha sbagliato schierandolo terzino qualche volta l'avrà messo pure nel centrocampo a 5-4 quando Gattuso aveva necessità di utilizzarlo però, però, sicuramente intanto Gattuso non è un maestro della tattica poi evidentemente l'Axalt non può giocare basso, deve giocare per forza alto a centrocampo là è il suo posto e là deve stare, inoltre se non gli si dà possibilità di far bene è chiaro che poi il giocatore non ti renda al meglio con questo non voglio dire che ad esempio i milanisti non devono essere contenti della sua cessione è un giocatore che ha fatto male là quindi è giusto che siano contenti ma come Niang, io sono stato contentissimo della sua cessione, per me è un bidone pazzesco ma se va a Ren, se va in squadra comunque che hanno un sistema di gioco più consono alle sue caratteristiche comunque per me è un buon giocatore in generale, in ottica generale poi da noi ha fatto male, anche se il modulo poteva andare bene per lui per dire quindi Niang per me è un bidone, però insomma avete capito il mio discorso, no? allora, dunque, è rapido, è rapido e soprattutto anche a detta sua nel 2013, lontano 2013 quando appunto si trasferì al Bologna dall'Inter tra l'altro lo trovò proprio Walter Mazzarri in ogni caso a detta sua è ottimo a alternare la fase offensiva a quella difensiva il che è perfetto, il che è perfetto perché è proprio quello che ci serve Ansaldi contro il Wolverhampton ad esempio si è spesso fatto superare spesso fatto infilocchiare, diciamo questo termine, insomma ad Amatrao Re ad Amatrao Re che è rapido, fisico e Ansaldi non ha rete poi il nostro gioco che era basato sulle fasce chiaramente si è un po' andato a perdere sia all'andata che al ritorno nonostante comunque le prestazioni sicuramente sufficienti anche con qualcosina di più dunque l'Axalt è bravo nel dribbling, è ottimo nel dribbling ed è dotato di capacità balistiche abbastanza importanti ha fatto un 2-3 gol col Genoa nella seconda annata ma in generale il suo apporto alla manovra la sua presenza in campo era di una importanza veramente capitale questo brufolo mi sta dando fastidio non vedo l'ora di levarmelo comunque in ogni caso c'è veramente poco altro da dire scusate se traballa tutto ogni tanto sono contentissimo di questo acquisto veramente però il mercato non deve essere finito qua chiaramente si parla di Kamano si parla di Idrissi si parla di Paleari Paleari 90% ti saluto a Ale insomma Albe scusate sarà un portiere del Torino sarà il secondo portiere del Torino mentre per quanto riguarda la ciliegina sulla torta che dovrebbe essere o Kamano o Idrissi si vedrà per Kamano c'è stato un brusco rallentamento perché non si riesce a trovare l'accordo con la gente come era successo con la Samp mentre scusate Idrissi Idrissi è un profilo interessante mi sono informato un po' ho chiesto dei miei amici che seguono il campionato olandese che sono esperti in materia tra virgolette e mi hanno detto che è uno dei talenti più insomma in vetrina in mostra delle redivisie con l'Az gioca alla sinistra può fare volendo anche il trequartista adattandolo un po' è rapido ed è un Kamano che ha numeri migliori insomma diversi assist diversi gol quasi doppia cifra sia di assist che di gol rapido ottimo nel dribbling veramente ragazzi certo non ci si può basare sui video sui video su youtube quindi chiaramente insomma è un giocatore che ha anche delle pecche mi informerò meglio vi dirò anche quelle probabilmente non è ottimo in fase di ripiegamento comunque in ogni caso così a occhio e croce se il Torino poi lo vuole ed è disposto a spendere 10 milioni per un giocatore comunque delle redivisie un motivo c'è un motivo c'è vuol dire che è un giocatore importante un giocatore richiesto da Mazzarri anche molto probabilmente e visto che stiamo puntando a diversi giocatori che giocano appunto nel ruolo di ala sinistra principalmente ovviamente anche con la possibilità di giocare a destra evidentemente Mazzarri vuole provare questo benedetto 3-4-3 quando tornerà Iago dall'infortuna però dopo la sosta in sostanza anche se il 3-4-1-2 per me è un'idea che non deve essere abbandonata per nulla perché ha funzionato così bene insomma nei preliminari d'Europa League e anche nel nel campionato contro lo Sassuolo quindi scusate per il naso veramente ragazzi situazione tragica questa mattina e niente vorrei sapere io che cosa ne pensate voi invece del colpo Luxalt cosa manca a questo calciomercato per essere quantomeno da 6 perché più di 6 non può essere a causa delle tempistiche che sono state scandalose scandalose ragazzi però sicuramente gli avessimo fatti prima tutti questi acquisti di cui si sta parlando il mercato sarebbe stato sufficiente sufficiente invece non lo è non lo è chiaramente ce lo è ma più di 6 no se viene i drissi se viene se viene i drissi vengono i drissi e paleari allora li si chiama no insomma allora può essere da 6 però basta stop e secondo me servirebbero 4 acquisti non 3 comunque in ogni caso ci saranno video ci saranno video a parte per loro in caso di acquisti quindi fatemi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di l'exalto scusate ogni tanto travalla tutto lo ripeto e niente ci si becca al prossimo video e sempre forzato chiaramente ciao